Musica Siamo sempre qui a Fiera Agricola nel stand di Fruit & Vag Innovation con il responsabile di Federbio Servizi, Dottor Conti Ecco, Dottor Conti ci illustri quelli che sono i dati del biologico in Italia e quindi in base a questi dati quelli che possono essere i futuri trend Sì, buongiorno, grazie per questa domanda siamo qui per questo, diciamo il settore del bio è in grande crescita ormai da diversi anni e non è più un settore di nicchia perché ormai rappresenta quasi dai dati 2017 il 20% della superficie agricola nazionale 1.800.000 ettari sta crescendo in tutti i settori in particolare dell'ortofrutta ma anche della viticoltura, dell'ovicoltura qui in un settore in grande crescita e anche in grande fase di performance a livello di export quindi siamo qui per questo Federbio Servizi è nata da qualche mese proprio per cercare di dare una mano a questo settore sulla crescita, sulla conoscenza a partire dalla formazione di base delle imprese agricole per arrivare alla fase di commercializzazione e di aggregazione per filiera i dati sono molto interessanti diciamo soprattutto in alcune aree, in alcuni settori c'è una crescita che sfiora il 100% per alcuni prodotti soprattutto nell'ortofrutta la media è attorno al 25-30% dal 2017 sul 2016 quindi performance incredibili quando sappiamo benissimo che l'agricoltura convenzionale diciamo in vari settori ha difficoltà ed è proprio dopo questo diciamo che cerchiamo di organizzare sempre meglio questo settore dal punto di vista sia agricolo che della fase di commercializzazione Perfetto, quindi adesso è importante visto la crescita anche controllare la crescita per cui la vostra associazione si prefigge questo sia dare consulenza che controllarla e poi avere anche un approccio nella filiera che non è solo la produzione Certamente sì cioè la fase di tracciabilità di filiera e quindi la costruzione di strumenti che certificano per il consumatore ma anche per la distribuzione il vero bio quindi danno anche un valore reale a questo prodotto oggi anche diciamo ci sono tentativi di frodi in un settore che sta crescendo quindi è importante diciamo avere il controllo di questo sistema Federal Bio Servizi ha fra i suoi obiettivi quello di costruire ad esempio piattaforme di tracciabilità del prodotto per il trasformatore per la distribuzione quindi come strumento di servizio ma ovviamente anche per l'impresa agricola di base che può trovare diciamo tutte quelle informazioni di natura tecnica che gli servono per far bene il prodotto bio Perfetto quindi possiamo dire che a Fiera Agricola con il biologico con Feder Bio Servizi in particolare si apre un nuovo segmento per cui anche giovani con i futuri PSR possono investire? Certamente sì accompagniamo questo percorso anche ad esempio con la fase del credito io rappresento le banche di credito cooperativo dentro Feder Bio Servizi che sono un po' presenti in tutto il territorio nazionale hanno grande attenzione ma come altri istituti di credito la crescita di questo settore per cui certamente possiamo accompagnare gli investimenti ad esempio sui nuovi progetti di filiera che sono stati presentati al Ministero Politica Agricola il 29 gennaio scorso sappiamo che ci sono diversi progetti sul bio consistenti dal punto di vista economico del numero di imprese che anche nella vostra realtà in Puglia su varie filiere da quelle tradizionali a quelle più innovative quindi diciamo un settore in grande crescita che va seguito però attentamente grazie a tutti grazie a tutti